Dato Paolo Parentela, che ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie, Presidente. Non mi ritengo assolutamente soddisfatto della risposta del Governo. La mancanza di una seria ed organica programmazione del sistema depuritivo regionale fa sì che in Calabria tutto sia gestito sempre in forma straordinaria. Nel frattempo si continuano a pagare molte salate per la valutazione delle direttive europee e a tentare alla salute dei calabresi a devastare ambiente e territorio a compromettere il turismo. Abbiamo delle spiagge meravigliose, calpestate appunto da questa incapacità politica che dopo gli ultimi trent'anni continuano a portare inquinamento diffuso lungo le coste scatenando nei cittadini rabbia, frustrazione, tensioni sociali, ripercussioni economiche in ogni stagione balneare e la situazione peggiora anno dopo anno. Sarebbero 53, infatti, i depuratori sequestrati e 322 gli illeciti accertati tra il 2015 e il 2016. Addirittura molti cittadini, attraverso comunitati e associazioni, sono stati costretti a sostituirsi all'ARPACAL per fare una campagna di monitoraggio e di analisi delle acque di balnazioni, visto che quella dell'ARPACAL non è ritenuta affidabile. Grazie soprattutto alla presenza diffusa. Grave soprattutto la presenza diffusa lungo la costa di scariche e cielo aperto, mediante condotte spesso non segnalate o addirittura volutamente occultate. Ad esempio a San Nicolarcella è stato riscontrato uno sversamento di liquami fognari che, partendo da un villaggio turistico, sono arrivati al ridosso di una delle più belle spiagge che quest'anno è entrata nelle 13 spiagge più belle d'Italia. Altrettanto grave è anche la scarsa attività di controlli sulle condotte abusive e sugli stessi depuratori. I controlli preposti sono passati dal 35,67% al 26,64%. Quasi nulla sappiamo della fine che fanno i fanghi di depurazione e nella totale assenza di sorveglianza degli impianti accade che una piccola pioggia può causare sversamenti di liquami in mare oppure succede che un furto di cave elettrici, come è accaduto a Catanzaro, può bloccare un intero depuratore con ripercussioni sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. In Calabria, sottosegretario, abbiamo interi Paesi non collegate le fogne. Di chi sono queste responsabilità? Sicuramente di una gestione commissariale che dal 1998 al 2008 ha avuto solo esiti fallimentari, come evidenzato anche una relazione finale dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode, in merito alla gestione dei finanziamenti ricevuti dall'Ufficio del Commissario Delegato nell'ambito del POR Calabria 2000-2006. Sottosegretario, mi riferisco alle gravi irregolarità amministrative, alla salute a mancanza di controlli, agli appalti in deroga alle leggi, violendo le prescrizioni sul cofinanziamento dei programmi comunitari, all'assenza di collaudi, alla mancanza di relazioni sulla conclusione e sullo stato dei lavori, alle varianti e aumenti di spesa non giustificati. Con l'articolo 22 del Decreto 113 del 2016, in particolare al Comma 8, avete emesso, con notevole ritardo, una pezza nel buco creato da voi stessi nel 2014, buco che ha solamente portato a grossi rallentamenti di lavori importantissimi in tutte le regioni del Mezzogiorno, in particolare in Calabria. Avete creato il solito sistema del cane che si morda la coda in tutti questi anni, con conseguenti rimbalzi di responsabilità tra Comune e Regione. Noi, cercando di rimediare questo errore del Governo, che nello sblocco Italia aveva praticamente bloccato i fondi per l'emergenza depurativa, abbiamo proposto un ordine del giorno proprio per impegnare il Governo in tal senso e sbloccare questi fondi. Ma in questo quadro di ordinaria disorganizzazione, i primi interventi da fare in Calabria sarebbero quelli di garantire un attento monitoraggio di ogni singolo impianto di depurazione e del loro corretto funzionamento, attraverso anche delle webcam e tecnologia sensoristica intelligente, capace di monitorare istantaneamente la qualità delle acque e di allertare le autorità competenti, avviare un censimento in ogni Comune di tutta la rete fognaria e avviare anche una mappatura subacquea completa che permetta di individuare la presenza di condotte non segnalate o volutamente occultate, predisporre un piano speciale di interventi di adeguamento all'intero sistema del produttore depurativo calabrese con affidamenti trasparenti, che tenga conto in primis delle priorità derivanti dalle procedure di infrazione in corso ed eventuali emergenze depurative, garantendo la salute e la trasparenza anche nell'utilizzazione dei fondi indiretti, consentire ai Comuni interessati in via del tutto eccezionale a fronte della situazione emergenziale in termini di tutela della salute, l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità al solo fine di garantire e attuare il programma di efficientamento e rifunzionizzazione degli impianti di depurazione nei Comuni costieri della Regione Calabria o da evitare la carenza di risorse impegnabili che comprometta appunto l'efficacia dell'azione intrapresa. Creare infine un sistema di coordinamento strutturato che sia fuori dalla logica del commissariamento. I commissari ogni volta che arrivano in Calabria falliscono su rifiuti, sulla depurazione, con uno sperpro di soldi pubblici, con un mandato chiaro e limitato nel tempo, che porti quanto prima ad attivare una gestione ordinaria delle risorse idriche, con una gestione pubblica e partecipata. delle piattaforme depurative, secondo criteri di efficacia ed efficienza, ponendo fine all'emergenza depurativa dovuta agli impianti inadeguati. Bisogna colmare questo deficit infrastrutturale del sistema depurativo calabrese e conseguire, oltre alla conformità normativa, un alto livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, dando particolare attenzione alle criticità impattanti direttamente sulle acque di balnazione, anche al fine di tutelare la promozione turistica della nostra Regione. Il mare è una risorsa da difendere a tutti i costi.